Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archevi Parla, e c'è stato proprio ieri un aggiornamento per Vanguard di circa 2GB e le patch notes comunque non sono molto interessanti. Per zombie c'è letteralmente soltanto una riga che non cambia praticamente nulla se non legato alla Wonder Weapon e qualche problema. Penso che per altre patch future aspetteremo la Season Reloaded per vedere magari dei grossi cambiamenti necessari e anche le modifiche alla Raygun o tante altre rework o cose di bilanciamento per quanto riguarda le armi, chi se su zombie o sul multigiocatore di Vanguard. Proprio riguardo questo weekend, a partire dai 18-19 di questa sera fino ai 18-19 del 22, qui intuplo l'ora doppio su Vanguard e su Warzone, quindi XP doppi, XP erma doppi, XP operatori doppi, XP battle pass doppi, XP click on doppi. Oltre che questo che già è un'ottima notizia e in tanti se lo aspettavano anche perché era già stato annunciato su Warzone tipo un mese fa, penso per sbaglio, arriverà anche un bundle gratuito chiamato Forbidden Sacrifice che contiene 9 oggetti e 10 skip del battle pass. Questo fa veramente comodo a tanti giocatori che magari non sempre lo completano e specialmente questa Season che dura ancora circa 40 giorni, quindi molto molto breve. Come ho accennato più volte in streaming, io stavo aspettando un quinto ploro a doppio del genere che ci è andati tantissimi il primo mesetto o due di gioco, poi piano piano sono drasticamente diminuiti. A me interessa principalmente per finire alcune armi per quanto abbia già la Dark Eater perché voglio come era su Cold War sbloccarla su tutte quante le armi. Tolto quello penso che finirò giusto l'operatrice che hanno aggiunto in questa Season e siamo un pochino da capo perché XP non mi interessano, il battle pass col tempo di solito lo finisco e come ho detto altre volte posso anche continuare a farlo su Cold War o altri code collegati. Altra notizia collegata a Vanguard ma non relativa a Zombie, per chi stava aspettando la modalità Ranked classificata, purtroppo è stata rimandata per alcuni problemi. E' davvero un grosso peccato perché già era in beta e ci sta lavorando Treyarch che continua a non capire, già stanno facendo Zombie, in più loro stessi fanno questa Ranked Play, per quanto sia come sempre il Code di Suo Jammer Games, e ci sono stati a quanto pare dei problemi. Sembra che tutte le sfortune arrivino a Treyarch, speriamo che questa situazione si risolvi il prima possibile. Non tante altre news per quanto riguarda questi giorni ma è ovvio, questa season è partita letteralmente 4 giorni fa, quindi questo è un momento preciso in cui giocare tutti i contenuti, inerdare questo weekend per il quinto blu raddoppio e poi aspettare in seguito le news aggiuntive per quanto riguarda i contenuti futuri che siano di Season Reloaded o altre cose del genere. Soltegno anche che stanno finalmente uscendo un pochino di news aggiuntive per i contenuti di Cold War che già ho elencato, li hanno per dire liccati, non sono stati ancora confermati ufficialmente da Treyarch, magari sui social o robe del genere, ma già si può sbloccare il nuovo fucile d'assalto, giocando al multigiocatore di Modern Warfare. La logica qua è una cosa veramente insensata al 100% perché si può sbloccare un'arma di Cold War, un fucile d'assalto, giocando al multigiocatore di Modern Warfare, facendo lì le sfide per sbloccare un'arma che poi andremo a usare su un altro code. Io non ho la minima idea di cosa sta succedendo, comunque per adesso questo è il metodo, dovrebbe essere tipo 1000 di danno in 15 partite, quindi circa si può fare. Io purtroppo non possiedo il multigiocatore di Modern Warfare e penso di fare questa sfida su Warzone, sia non voglio farlo, sia penso sia una cosa molto molto pesante. In ogni caso, per chi possiede tutti quanti i giochi, potete teoricamente sbloccare e poi utilizzare questo nuovo fucile d'assalto. Speriamo che anche presto gli altri contenuti leccati, tra cui l'arma corpo a corpo, il bundle di Raven, l'altra mappa del multigiocatore, arrivino anche su Cold War e che Treyarch possa appunto confermare l'arrivo di questi contenuti, perché quando avremo finalmente questa conferma ufficiale, non soltanto leak e scavare nel codice del gioco, capiremo che appunto stanno arrivando, si spera più volte, altri contenuti per Cold War. E si spera ancora una volta, qualcosina magari anche per zombie, per quanto già delle armi degli operatori di zombie stessi siano molto interessanti. Bene ragazzi, voglio sapere come sempre tutte quante le vostre opinioni, perché magari giocherà questo weekend, giusto per abusare di questi XP, arma doppia e robe del genere, e come al solito, per quanto magari qualcuno non sia troppo interessato a Vanguard, se volete mettervi avanti per qualche sfida, un po' di XP, livellare qualche arma, questi sono i momenti migliori per farlo, come sempre non bruciatevi giocando troppe ore, ma se volete livellare ancora qualcosa e siete indietro, questo è il momento perfetto, altrimenti di base si livella veramente troppo lentamente. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile, tutti quanti i link e le informazioni di questo video sono qui sotto in descrizione, trovate anche tutti quanti i link dei miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, ci vediamo come sempre a un prossimo video, un abbraccio, ala!